E come ci arriviamo? Ti aiuto a trovare questo Superman. Poi siete da soli. Sì. Sì, sì, sì. Sì. Solo Batman. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Qual è il piano? Prendiamo Superman e poi evaporiamo prima dei fuochi d'artificio? Non lo so. Chiedilo a lui. Chiediglielo tu. Dovresti farlo tu. Sì. Non glielo chiedo. Perché no, Batman non era tuo amico. Non questo. Non questo Batman. Ci siamo. Modalità stazionamento. Espulsione sedile. Espulsione sedile. Espulsione sedile. Espulsione sedile. Di mezzo. Ma che bella? Ma che bella! Grazie a tutti.